Sono legittime da parte dei partiti della coalizione osservazioni e richieste di approfondimento, ma a me più di ogni altra cosa premono i problemi di questa città e le aspettative dei tanti cittadini che auspicano una giunta al più presto completa ed efficiente. Ecco perché pur nel rispetto della dialettica politica ho dato ancora qualche giorno di tempo ai partiti. Non intendo andare oltre la metà della prossima settimana. In questi giorni continuerò ad assolvere alle tante incombenze che i cittadini ci propongono e reclamano e continuerò a farlo con lo stesso impegno e la stessa dedizione che ha caratterizzato questo mio primo mese di lavoro.